E' la svolta del futuro. Nissan è stata l'antesignana, parlando di elettrico già ben dieci anni fa e oggi tutta la produzione futura che arriverà sarà essenzialmente elettrica o elettrificata. Il nostro obiettivo ovviamente è proseguire su tutta l'attività che abbiamo iniziato ben dieci anni fa con tutta la rete. Stiamo iniziando ad ottenere riconoscimenti dalla clientela e il prossimo impegno che faremo sarà quello di provvedere all'inflottamento dei veicoli elettrici da utilizzare come auto da noleggio. Comersud è la nostra forza, è uno dei gruppi più importanti sul territorio nazionale, sicuramente fra gli importantissimi nel mezzogiorno d'Italia e per noi è stato un onore e un piacere poter collaborare con lui ma siamo certi che sarà la via del futuro che ci rappresenterà nello sviluppo dei nuovi prodotti e nello sviluppo dell'elettrificazione. E' una parte fondamentale, chiaramente veniamo da un momento di estrema e profonda crisi dovuto alla pandemia ma i segnali ci dicono che ritorneremo a sviluppare un seguimento di mercato che ci stava dando grandi soddisfazioni. Quindi quella sarà la ripresa e su quello stiamo lavorando. Grazie.